Sono felice di aver pubblicato Dalle antichi altari al culto di Satana, a cura di Antonio De Palma e Vincenzo Delisio, nella collana Universo del mistero a cura di Mario Contino. Un libro assolutamente interessante che ci proietta nell'universo dell'esoterismo e dell'occultismo attraverso soprattutto una ricchezza di informazioni, sitografie, bibliografie veramente incredibile. Si troverà di tutto, veramente, da Eliphas Levi all'Ordo Tempio Orientis, da Lister Crowley a Charles Manson. Un lavoro eccezionale che può essere utile anche per comprendere quelle che sono state definite psicosette e che nella maggior parte dei casi hanno riempito in chiave negativa le pagine della nostra cronaca nera contemporanea.